Ciao a tutti, oggi siamo qua con Denis e Vanessa, ci presento la loro casa di San Giovanni Larione. Allora, ragazzi, vi chiedo una semplice domanda. Come è nato il progetto? Allora, il progetto è nato insieme, diciamo. Allora, noi avevamo idee contrastanti inizialmente. A me piacevano le piste alle scure, a lui quelle chiare, io ero fissata sulla vasca, lui invece sulla doccia. Poi abbiamo detto, ma sì, fermiamoci da Pellizzari e vediamo se riusciamo a combinare queste idee che abbiamo. Abbiamo trovato Roberto e Greta, che ci hanno dato una mano in questo progetto, quindi insieme abbiamo fatto un giro di quello che è il showroom. E io mi sono innamorata subito delle pestrelle scure, quelli giganti che abbiamo messo. E lui, vedendone, si è un po' convinto, si è calmato. Si è tranquillizzato. Beh dai, non è proprio nero, nero, va bene, dai, proviamo. Ma tu, è così. Eri preoccupato. Sì, poi diciamo quando ho visto il rendering che ci hai fatto, mi sono convinto molto di più, perché diciamo non capivo bene come andava a finire la soluzione. Poi invece, sì, perché poi appunto ci sono comunque dei punti più chiari, quindi c'è il progetto poi è effettivamente, non hai l'impatto, sì, hai l'impatto dello scuro, però la resa non è di un bagno cupo, anzi, cioè è molto effetto spa, sinceramente. Io ero fissata appunto con la vasca e infatti è la prima cosa che ho detto, sì, era fisso. Infatti ho detto, Greti io voglio quella vasca lì, lui penso non l'avesse capito ancora che tipo di vasca fosse, la vista in foto su. E da lì quindi la vasca era sicura, poi quando avete fatto il progetto della doccia, che abbiamo appunto approfittato di questo spazio che avevamo in fondo, perché essendo un bagno che si sviluppa sulla lunghezza, è proprio l'ideale, ha i suoi augelli, cioè è veramente fenomenale. E quando abbiamo visto il progetto basta, vedete, cioè non abbiamo cambiato nulla, credo, forse abbiamo dovuto perché poi sono cambiate le misure. Qualche misura, però ecco, sì, ci avete sempre seguito dall'inizio alla fine e su questo non possiamo dire nulla, siamo contenti. Siamo riusciti a unire le due idee? Assolutamente sì, sì. Benissimo. Sì. Grazie. Grazie a voi. Ciao.